Buongiorno amici, eccoci qui a parlare di un'altra esca total. Le total bait, total boilies, sono un insieme di ricette che trovate nel blog del mio sito www.sergiotomasella.it in una sezione apposita del blog e che trovate anche nella ristampa del libro Boily Istruzioni per l'Uso. Sono esche molto tecniche, dedicate ad un carfishing moderno dove non si fa più una gran pasturazione preventiva. Sono esche veloci ad entrare in pesca, hanno gli stimoli giusti, una chimica organica non sintetica, non sospetta per i pesci, quindi sono esche che vanno anche nelle acque estremamente pressate e ognuna ha una sua specificità che è data da un mix costruito apposta per la parte liquida che è la vera caratterizzante del progetto. Oggi parliamo di una bellissima esca total, la total crab, quindi questa esca ha il granchio che affonda le radici in un passato molto antico quando nelle acque venete a fine anni 90 la roma monster crab di Rodachinson e l'estratto di crostacei di nash facevano una sostanziale differenza in termini di cattura e di taglia del pesce perché ci eravamo accorti che questi pesci si nutrivano principalmente di gambri e granchi della laguna nelle acque salmastre e quindi questi stimoli toccavano delle corde straordinarie per questi pesci. La total crab nasce sull'onda della minaccia, io ho pubblicato molte ricette di liquid food predigeriti da fare in casa alcuni utilizzano il gambero rosso della Louisiana, questo invasore e quindi mi sono trovato in questo 2023 ad analizzare anch'io la piaga del famoso granchio blu che sta invadendo le nostre aree colenali e risalendo prepotentemente anche i fiumi e molti carpisti mi hanno scritto che con estrema facilità riuscivano a procurarsi decine di chili di questi granchi e se era possibile trasformarli in un qualcosa di adatto per fare esche da carpe e io ho rielaborato ovviamente il progetto di liquid food dedicato ai gamberi, siamo sempre lì con un po' di spinta in più per riuscire a sciogliere il carapace del granchio che è più duro quindi praticamente si tratta di sottoporre i granchi all'azione del calore e dell'acido la ricetta del liquid food la trovate nel blog e ve la linko qui nei commenti del video in modo da sciogliere la componente cheratinica e riuscire a liquefare il granchio quel tanto che basta per frullarlo e fare questa poltiglia che poi viene messa a predigerire e fermentare per diversi giorni al caldo fino a ottenere un super liquido attrattivo veramente interessante questo liquido attrattivo anche perché è a costo zero basta munirsi di una canna di bambù, un filo, avere la licenza di pesca ovviamente una coscetta di pollo cruda e il rettino per salpare i granchi, occhio che pizzicano e quindi ci sono già centinaia di carpisti che stanno realizzando etolitri di liquid food al granchio dal quale ho voluto far nascere una bellissima isca total crab che è spettacolare in tutte quelle acque in cui le carpe si nutrono di crostacei quindi non solo nel fiume o nel canale dove ci sono i granchi ma anche nei grandi laghi, nelle cave di ghiaia dove l'alimento preponderante è dato dal gambero e dal crostaceo in genere perché non ci sono solo i gamberi, ci sono anche altri tipi di micro crostacei nelle acque dolci ma noi focalizziamo sul gambero la nostra attenzione principale quindi un'esca straordinaria lì dove i pesci sono abituati a questo superfood naturale allora la base del mix è studiata per un impiego in acque correnti e quindi va benissimo anche per il lago perché è molto densa, molto pesante va benissimo quindi anche in lago ma non sempre ciò che va bene in lago va bene in fiume perché alcune esche troppo leggere possono essere portate a valle dalla corrente è una base di mix non troppo costosa, molto compatta anche perché in fiume comunque senza pasturazione preventiva si usano le quantità anche per la pasturazione durante la pescata e quindi la base di questo mix sono tre elementi strutturali e pesanti che sono la semola rimacinata la farina di mais fumetto che è quella usata in pasticceria, impalpabile, finissima in supermercato trovate in genere la fioretto che è un pelin più grossa va bene comunque però se proprio volessimo essere pignoli più sottile la grana della farina di mais meglio è poi c'è il glutine di mais scusate che è la farina più pesante di tutte glutine di mais l'ho detto mille volte è una definizione erronea nel mais non c'è glutine queste sono proteine del mais e le trovate in ambito pasture da pesca quindi dai vari zombini, pagliarini del caso trovate il glutine di mais detto anche super gold che è una farina veramente molto molto pesante poi ci sono le proteine del siro del latte in questo progetto di mix poi vi lascio sempre il link al mix scritto ed è scritto nel blog qui nei commenti del video ecco che nel progetto di mix c'è anche la paprika che è un peperoncino, un peperone molto ricco di carotenoidi e ho spiegato in diverse occasioni come i carotenoidi siano molto stimolanti per i pesci che si nutrono di crostacei perché i crostacei sono a loro volta ricchi di carotenoidi ok? e c'è una piccola componente anche di pesce in quest'esca un 10% che può essere affidato a qualsiasi farina LT di vostro gradimento per tenere la struttura e i nutrienti dell'esca a un livello medio interessante per un'esca total così come potremmo introdurci il belacian in polvere o grattugiando il panetto facendo un'esca super crostaceo fermentato che si alza come costo perché un 10% di belacian ha un suo costo e quindi fa diventare l'esca total crab più adatta ai neschi prestazionali quindi quando faccio poche palline pesco solo con lo stringere cose di questo genere qua ma questa variante col belacian che vi ricordo essere un gamberetto delle paludi indiane fermentato nel sale al sole ok? quindi anche questo un bel predigerito fermentato e abbiamo creato la nostra base di mix per la parte liquida quindi utilizzeremo questo predigerito fermentato di granchio blu uno non ce l'ha e che fa? non può pescare i granchi blu e che fa? beh insomma è logico che poi posso strutturare comunque un'esca sul crostaceo mettendoci dentro dei liquidi che posso già trovare in commercio mi viene in mente la ragosta idrolizzata che vende CBS che è un ottimo liquido a base di crostacei così come potete trovarne altri dati produttori anche Moore mi pare abbia in catalogo dei prodotti a base di gambero e via discorrendo però la total crab nasce su questa parte liquida total crab che avete fatto voi stessi e che quindi rende il progetto un super self perché è tutto self è tutto fatto da voi a questa parte liquida di granchio fermentato aggiungeremo un prodotto africano che io ho scoperto molti anni fa quando studiavo per l'azienda come sostituire il Robin Red che iniziava già a inizio del nuovo millennio ad essere un prodotto difficile da far arrivare dall'Inghilterra sempre più costoso poi c'era sentore che fosse stato cambiato non era bello e quindi nella mia ricerca di prodotti specifici mi sono imbattuto in questa AJA A-D-J-A AJA che è un insaporitore usato nella cucina africana composto di concentrato in polvere di pomodoro spezie e glutamato monosodico una bomba atomica sia come gusto che come contenuto di carotenoidi che come spinta evolutiva che interagisce con i gusti di tutti gli altri elementi inseriti nella boile l'A-D-J-A è un prodotto che si trova nei negozi etnici ma che può essere sostituito a sua volta se non lo trovate con triplo concentrato di pomodoro e glutamato monosodico combinati in parti uguali quindi prendo 100 ml di triplo concentrato di pomodoro e ci unisco 100 grammi di glutamato monosodico ottenendo 200 grammi circa di questo prodotto che poi andrò a dosare ad hoc e vi rimando sempre alla ricetta scritta nella mia Total Crab ho deciso poi di metterci dentro un olio essenziale che si è rivelato straordinario per la pesca in fiume è l'olio essenziale di timo rosso che caratterizza anche la replica della readymade hot demon di Starbite che trovate sempre sul blog non sapevate che sul blog c'è anche un paragrafo destinato alle repliche delle readymade cavolo è fighissimo anche perché abbiamo fatto delle repliche straordinarie cito fra tutte la multiplex che era un'esca straordinaria di Richard la cui replica è perfetta e superiore all'originale come resa quindi andatevi a vedere anche le repliche dire di me c'è tanta di quella roba da leggere che non avete idea sul blog del sito ok? consultatelo se non l'avete mai fatto ecco quindi che siamo andati a chiudere il cerchio di quest'esca che si rivela veramente una carp catcher eccezionale e che tutto sommato è un'ottima esca invernale i grassi sono bassi lo stimolo è quello giusto perché con le acque fredde viene meno questa disponibilità di crostacei e di conseguenza andiamo a proporre uno stimolo che il pece cerca con frenesia pur non trovando tanto alimento gran pallina anche per il lago e se dovete produrre tonnellate capite che la risorsa granchio blu a costo zero vi permette di realizzare una montagna di liquid food che poi, badate bene può essere utilizzato anche su un normalissimo fish mix mix rendendo un'esca fish mix molto votata per le carpe che si nutrono di crostacei quindi si può spaziare e io lo dico sempre le parti liquide delle total bait che vi piacciono che vi intrigano le potete mettere anche su un beer food anche su un 50-50 anche sul vostro mix del cuore creando quindi nuove varianti sempre più stimolanti qual è la differenza di una base total boiling quindi un mix strutturato apposta che permette di far star dentro tanto liquid food quindi su una base magari normale beer food mix non riuscite a mettere gli stessi ml di liquid food che mettereste nella sua base total ma non importa invece di metterne 200 ne metterete 100 non è un problema ma comunque gustativamente tutte le basi liquide delle total bait sono potentissime ma naturali ricordatevi potentissime ma naturali non c'è chimica di sintesi non ci sono segnali strani per la carpa in questa nuova visione non compare nemmeno il dolcificante che ha caratterizzato tutte le esche degli anni 90 tutte le esche degli anni 90 erano dolcificate ma appunto per questo molti pesci in molte acque hanno iniziato a riconoscere le molecole dei dolcificanti e a trovarle sospette quindi omettere tutta questa chimica aiuta verso i pesci sospetti mentre se peschiamo in acque normali come impatto possiamo anche sbizzarrirci e l'esca total metterci anche qualche ml di aroma per esempio un monster crab fatto bene su un'esca come questa ci potrebbe proprio stare in effetti ma deve essere fatto bene deve essere amminico si devono sentire l'ammoniaca ok? perché vuol dire che dentro c'è la trimetilamina che è la sostanza attrattiva per le carpe bene ragazzi spero di avervi stuzzicato con la total crab che è un'esca che a me piace tantissimo che in tanti stanno utilizzando già e ha un successo devastante in pesca ok? e come sempre alla prossima e vi ricordo che nell'area abbonati del sito ci sono spiegate anche tutte le total più tecniche che non sono in visione pubblica che non sono in visione pubblica